Sì, come va? Bene. Che fate? Ti pulisco la camera. Guarda, guarda che bello! Ma sai, vittima bello, da qua in poi siamo stufate. E... 3... Ma è rimasta là. Visualizzatevi però. Visualizzatevi che correte là. 3, 2, 1... Sì, guarda che fa bene! Ma c'è un punto lì, dove è l'altro? No. Ah, 2? No. Raga, ora vado a concentrarmi. Uno. Ci vediamo dopo, voglio sentire l'ultimo. Ah! Yes! Allora, 15 secondi dal comencinato, Allora, vabbiamo! Allora, i raggiudori. Allora, i raggiudori. Allora! Allora, vittima! Allora! Grazie a tutti. Buon appetito, frasco. Vai, due parole dal tifoso. Brava Marty. Vai, vai che sei arrivato. Dai, 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 piedi in fondo. Non camminare. Cammino. Un bel arbusto. What can you do? What's the plan now? Coach, Coach Reney? Il numero 12 per l'Australia. Però... What a good race. What a good race for l'Australia. E faremo meglio i prossimi anni. Però sono sicuro che tutti i 2005, 6, 7, 8 che ci guardano nel 2025 che avremo la staffetta oltre altre gare in Italia. Possono arrivare là pronti. una bella strada da avanti. Lo vedi già a tagliare i capelli agli altri. A zero, al Mattia Corona, alla Nastia, alla Elis e sarà lui che è lì che li rappa. Io ho già fatto! Allora la staffetta, ragazze, iJW, tutte le azate. Coach, sei pronto? Ho già vinto! E poi... Aspetta, aspetta che devo mostrare cos'è che... La banana! Ciuffetto, siamo? C'è. Giulia. E' il mio idolo, c'è il mio idolo! Dai, Steppu! E' lì, eh? Sto anche va volando. Steppu! No! Fuori c'è un po' di nebbia. Grazie. Yeah, Lili is now one minute late, but she has a huge train after her. This is a huge train of runners. Yeah, but we saw, we know here from the GPS she has made a big mistake, but still, this is bronze medal position for Lili Grabar. Bronze medal position for Lili Grabar here at the Arena Passage and she is only 55 seconds behind the leading time of Hilda on Vince Johansson. So she is fighting for the top position right now, Lili for the podium position. It will not be gold and it will not be a medal for him. Or maybe, maybe, because we know that Jakub Halupski has lost some time on the last loop. but is performing really well and is coming to the fight for a position in the podium. It's going to be more than four minutes behind Noel Brown here at the Arena Passage. Punching right there, position number four for Iljan Anjali. 4.34 behind the leading time of Noel Brown. Yeah, I think that even though the mystic of Halupski in the end, it's still almost one minute that Halupski is ahead of Iljan. So, Iljan still fighting. Yeah, but Iljan, I think Iljan is still fighting for the medal here, because we know that Halupski has lost some time on the last part of the course. Of course it's really difficult because it's almost almost one minute, but still, still open for the medal position for Iljan. So, I like it. It's. It's almost one minute of the medal to the medal. I like it. So, how do we go?